If I hit the switch, I can make the ass Stop, drop and pop it And after you pop it, please put it in my pocket Look here, I need a spot Hey la ragazzi, sono sempre io il vostro di Core25 Ed eccoci qui per un nuovo video Il secondo episodio della nuova serie che è nata settimana scorsa La serie del venerdì Che poi non so se sarà a cadenza settimale O magari qualche volta vi prenderò qualche periodo di pausa Però questa volta vi porto l'episodio Anche questo venerdì Nel discorso ho iniziato la nuova Skyblock Sul sito di Hovermind Sul server di Hovermind E devo dire che è molto bella Mi sto appassionando Non è la stessa cosa I prezzi, quelle cose lì mi do un po' abituare Ora vi faccio vedere giusto così Sul momento, un bel money Qui ho aperto il mio warp ufficiale Isola principale in fase di costruzione Benvenuti alla mia isola E per la parte bassa buttarsi nel buco uno per uno Perché qui ragazzi c'è una parte bassa Perché chi di voi mi seguiva anche in universe Sa che pure in universe avevo fatto un'isola strepitosa Mirabolante, fantastica, errima sopra E sotto avevo fatto Un'isola secondaria Una specie di base per refarming Io qui ovviamente mi sono un po' dato da fare E ci sono stato molto nel server ragazzi Vedrete le risorse che ho E buttiamoci nell'uno per uno Consiglio a chi verrà nella mia isola Di buttarsi ma di muoversi il meno possibile Perché si rischia di meno Qui è pieno di slime ragazzi E non so cosa dirvi veramente Ho chiesto in giro e Gli dicono che ho avuto una fortuna sfacciata Perché gli slime non spawnano a nessuno Vabbè qua io lo ignoro, non me frega niente Sto allargando pian piano Vedete la piattaforma Con tutte le slab All'inizio ho cominciato con i blocchi Poi mi sono detto Dico ma non essere coglione Usa le slab Infatti sto usando le slab E pian piano mi sto allargando Devo fare questo quadrato enorme Perché ho scoperto che l'area è costruibile Un 100% Facciamo un isgo Quindi ragazzi Ho 16 livelli Ma ne avevo molti di più Ma sai quante volte mi sono schiantato Qui ho creato lo spawner Come faccio sempre io ragazzi Il mio solito spawner Spawner doppio Che è veramente efficiente E niente Ci tenevo a mostrarvelo Ma questo lo faccio praticamente In ogni serie L'ho fatto anche nella Nella mia vanilla Quella che Poi ho sospeso momentaneamente Ora mettiamo il blocchi Guadagnato da parte E qua ho Dei cactus E delle cose Allora Controlliamo le challenges Dove eravamo rimasti Allora abbiamo fatto questo Una volta Potremmo rifarlo Ma per ora non lo faccio Poi c'è da fare 21 pagnotte di pane E 32 coloranti verde cactus Allora 32 ce li ho Quindi direi subito Di metterli a cuocquerli E ragazzi Intanto prendo le 21 Pagnotte di pane Ne ho molte di più ragazzi Me ne rendo conto Ma Veramente Ve l'ho detto Sono stato un botto Online E quindi L'erba cresceva I fiori Quelle cose Tra l'altro Mi era spawnata Una pegora Adesso vi faccio vedere Ho due di lana Perché mi era spawnata Una pegora Io Colto il momento L'ho pelata Cioè l'ho pelata L'ho Sì l'ho No porca miseria Ho rimesso Là dentro La roba L'ho Tosata E mi son preso La lana Ovviamente Perché poi Ho detto Non si sa mai Infatti poi sono ritornato online Nelle serve Non c'era più Challenge Ok E facciamo questa qua Fatto ragazzi Abbiamo sbloccato la sfida Panettiere 5 blocchi di terra 30 di exp E 10 di soldi Ma sinceramente Poco mi frega Ho scoperto tra l'altro Ragazzi Che uccidendo gli slime Tipo un mini slime Adesso vedo se lo trovo Uno piccolino Se no Uccido uno grande Per farli diventare piccoli Se io uccido Un mini slime Adesso facciamo un po' Di piazza pulita Vabbè Ho abitare un arm Ed senza armi 38 Perché io li picchio Senza armi I slime Adesso non so Sì vedete che guadagno soldi Ogni volta che Colpisco Uccido un mob Oppure lo riduco Guadagno soldi Quindi ragazzi Sto farmando Come un maledetto I soldi Prima mi dicevo Picca tutta questa cobblast La sto sprecando Non la posso vendere Perché ovviamente Sprecandola per fare la piattaforma Non potendo venderla Però ragazzi Ho trovato un metodo migliore Per fare soldi E exp Senza l'exp Di exp La farm di mob Io mi tengo questa farm Naturale di slime Ragazzi Infatti ho creato Questo warp apposta Perché così Se la gente vuole Viene qua Nella mia isola E va nel warp A Se va nel warp A fare un po' di esperienza Un po' di slimeball Parto col dirvi Che poi comunque Le slimeball Non è che vi diano molto Cioè ragazzi Adesso vi faccio vedere Tra l'altro guardate Questa cesta Riempita di legna Che crescono giù E qua tutte le slimeball Che ho guadagnato Nel periodo Che ho fatto Una di Quest'episodio Quindi ragazzi Comunque le slimeball Se ne guadagnano E appunto con voi Volevo vedere Quanto riuscivo A guadagnare Con queste slimeball Ora direi Di svuotarceli Inventare completamente E prendiamo Tutte queste slimeball Posso lasciarne Anche una da parte Perché tanto Quella lì Non me la vende Perché non è A moltipli di 16 Qua prendiamo Il cactus Ok Vediamo intanto Come vanno qua Ok Siamo a 16 Io direi Di fare Shop Vendita Vendi tutto Per 720 Vedi ragazzi Cioè Cosa avevo Metà cassa Ho fatto 720 Cioè Alla fine conviene Perché comunque Cosa fa Me le tengo le slimeball Però Conviene di più Uccidergli gli slime Che ti danno Due a botta Ti danno due Due cosine a botta Invece Le slimeball Te le pagano Vediamo Te le pagano 16 Te le pagano Meno di uno A slimeball Io invece Uccidendo un mob O dividendolo Mi da due Quindi comunque È una figata Bene Quindi aspettiamo qua Però posso fare Un'altra volta La sfida del panettiere Tra l'altro ragazzi Voi magari vi direte Ma perché sprechi così Il panno Potresti mangiarlo Ma ragazzi C'è uno spawner Di C'è uno spawner Di Di maiale Al centro Che posso usare Quello Lo faccio di nuovo Ok Un blocco di terra Ancora Tra l'altro I blocchi di terra Mi possono tornare Davvero utili Perché devo trasferire Devo allargare Questa piattaforma Poi qua Sparirà tutto E diventerà tutto di terra Tipo un'isola vera e propria Poi non so ragazzi Se farò pure La calotta sotto Come avevo fatto In universe Che ci avevo messo Ovviamente Un'eternità Tutto starà Vedrò come decidere Perché ho deciso Di fare un'unica isola enorme Ragazzi Farò un'unica isola Di 100% Ho posato il grano Senza ripiantarlo No Non l'ho ripiantato Infatti Farò un'unica isola Di 100% Perché come vi dicevo È un 100% Quest'isola Lo spazio costruibile Come potete vedere sotto È un 100% Ma io non voglio fare Un'isola 100% quadrata Che mi fa schifo La farò A cerchio Così ragazzi Tipo Quindi un bordo Non verrà Magari farò Delle piccoline isolette Verrà un 100% Ellittico A cerchio Così verrà un'isola Tutta rotonda E lì ci farò Casa Granaio In cui faccio le cose Oppure punto In cui mettere villager Perché la mia intenzione È anche di fare Di convertire Magari qualche mob E trasformarlo in villager Allora Ora cosa possiamo fare Vabbè raccolgo Questo coso di grano Dovevo aspettare Il Coso Ma mentre che quasi No Quasi finisce Intanto che finisce qua ragazzi Raccolgo un po' la legna E La mettiamo da parte Tra l'altro adesso Vendo anche la legna Insieme a voi ragazzi Perché ho aspettato anche Per vendere la legna Voglio vedere quanto Riesco a fare Con questa legna Allora Vediamo Vabbè Quelli 27 lì Li lascio No Non posso anche Prenderli 16 Ne devo prendere Ok Vediamo quanto faccio Con la legna Se faccio di più Con Il cosio Con la legna Ok Vediamo Eh Faccio molto di più Con la legna Ragazzi 2664 Pensare che qua ragazzi Gli alberi crescono Che è una meraviglia Cioè ogni volta Ogni giorno che passa Ragazzi Vado a vedere giù E ci sono alberi cresciuti Tipo ne ho tolto uno E è cresciuto Due secondi dopo È una figata E posso formare legna Invece che venderla a cobblestone La cobblestone me la tengo E la spreco Per fare l'isola Venderò solo la legna E le altre cose Ok Qua è finito Il cactus green Quindi Torniamo col challenges E facciamo 32 coronanti verdi Cosa ci da? Ah Ci ha dato di ricompense Molti Arboscelli diversi Potrei formare quindi Vari tipi di legno Anche se comunque Il prezzo è sempre quello è Fatemi vedere Challenges Tra l'altro cosa posso fare adesso Ah Posso fare anche 21 pagine Ragazzi Facciamo tutti insieme Proprio Non so quanto serve Per fare 21 pagine Però 30 ne ho fatte Va bene Ok challenge Sto facendo tutti insieme a voi Questo cos'è? Crea un generatore di pieteschi E rompine 64 blocchi Vabbè basta che prendo 64 blocchi Allora Ok Cosa mi ha dato? 5 blocchi di terra 15 di argilla 30 di exp I soldi Va bene Non è che ve ne faccia molto Allora posiamo tutto qua Posiamo anche le pagine in più Che tra l'altro posso farlo di nuovo ragazzi Dov'è? Le faccio tutte ragazzi Le pagine Così se riesco a fare l'obiettivo 2-3 volte Lo faccio Ok Vediamo quante volte riesco a farlo Quante te ne chiede? 21 Quindi posso farlo almeno 2 volte Ah la seconda volta poi ti da meno roba Ti da la sabbia Ok io allora Ne approfitto per cuocere In cosa di sabbia Facciamo anche quello del vetro Perfetto ragazzi Adesso aspettiamo il vetro E otteniamo anche l'obiettivo Quello del vetro Che avevo detto che non l'avrei rifatto più Ma adesso lo posso rifare Questo Fatto Mi ha dato un blocco di ghiaccio Che poco me ne faccio E cosa? Vediamo tra l'altro una cosa Challenges Allora questo non lo posso più fare Perché l'ho fatto abbastanza Questo lo posso fare 100 volte Quindi ce ne ha voglia ragazzi Questo anche 100 volte Questo anche 100 volte 100 volte anche 64 di cobblestone Questo basta che faccio 64 di cobblestone Ragazzi lo prendo Ok questo Ottieni 64 semi di melone Di zucca E di grano Beh anche questo è una cavolata Melone, zucca e grano Grano ce li ho Quindi Grano ce li ho sicuro Melone e zucca no Vabbè però posso farlo E poi vediamo cosa c'è Craft 18 ciotoli di spezzatino E funghi Ok Spezzatino è quello che è anche col coniglio Se non sbaglio E questo Raggiungi il livello 10 della tua isola Questo l'ho fatto Quindi ragazzi me lo possono dare Ok mi ha dato un piccone di ferro Interessante Comunque ci sono Queste sono le ceste con le slab Qua c'è la ceste con legno E qua c'è la ceste con le slime ball Che ho venduto Ok qui è cresciuto un albero Lo raccogliamo insieme Cioè lo sradichiamo insieme Lo ripianto subito Non mi dire che è uscito quello grosso Però godo ragazzi Quando esce quello grosso Si gode perché comunque Cioè mi da una fracca di legna ragazzi Una fracca veramente Ok mettiamo qua dentro Ok Vediamo quanto faccio 2,56 per 4 stack di sampling Alla fine ragazzi Non è niente di che Ma comunque piuttosto che Sono quasi 10.000 ragazzi C'è da festeggiare Allora Vabbè ora vi faccio vedere ragazzi Scendo giù con l'ascia Ma non la uso Guardate quanti slime spawnano Vabbè che mi mancano ancora molte ragazzi Per costruire Quello sicuro Guardate quanti slime spawnano È veramente una bestia È una roba incredibile Ora però voglio mostrarvi una cosa Prendiamoci Il comando spawn Ah no 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 Mi sono scusato di prendere una cosa Is go Ho scoperto che ci sono i vari gradi Tipo ragazzi adesso vi faccio vedere Se io faccio così C'ho scritto grado cittadino Se io prendo le apple E vado allo spawn Ho scoperto una cosa Beh mi butto qua Tanto non soffro Una cosa che non mi piace di questa modalità Invece che Come universe che universe aveva Qua ci sono i pacchetti VIP Mi servirebbe moltissimo ragazzi La fly Con la fly potrei costruire A bestia Ma non posso spendere 30 euro Sinceramente non conviene E vi dicevo Una cosa che mi piace di video universe Era il fatto che tu ti buttavi nell'isola Ma scendi due giù Non morivi Non c'era il danno da caduta Invece in questa qua C'era il danno da caduta Dovevo fare l'acqua giù Perché mi 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 attutisce la caduta Se non morivo Ok vedete qua c'è la scala dei gradi Allora qui dice che sono cittadino Requisiti del grado iniziale E nessuna ricompensa Poi qua dice Agricoltore Devi avere uno stack di mele E potrai scrivere cartelli guardati Quindi io Per salire si usa Il comando rank Uno stack dovrebbe essere 16 Quindi proviamo ragazzi Ah Uno stack del 64 di mele Perché qua nel server Non sono 16 Allora ragazzi Era come pensavo io Infatti ho visto che non si accumulavano Mi servono 64 mele Quindi questo lo rimanderemo Alla prossima puntata Perché a questo punto Non posso più prendere Non ce la farei mai A prendere altre 11 mele Da adesso in poi Anche se si potrebbero comprare Non lo so questo ragazzi Vediamo se si possono comprare le vele 4800 non conviene ragazzi Ovviamente non conviene Potrei farlo qua in diretta con voi Ma per salire di rank Non vado a spendere 4800 Non ha alcun senso Quindi vabbè Poi ci sono vari livelli Tipo artigiano deve avere 32 cubi di cred Redstone E cartelli Vabbè ci sono varie cose Ma voglio farvi vedere Niente Questo era principalmente Ciò che volevo mostrarvi Dovrò fare una farm più efficiente Sia di canne da zucchero Che di cactus Che di grano Perché comunque avete potuto vedere Che l'obiettivo Ci dice che Possiamo farlo 100 volte ragazzi Non è poco Comunque il mio warp È sempre aperto ragazzi Basta che fate Warp E vi esce questa schermata Andate su warp dei giocatori con la E trovate tutti i warp Potete accedere ai vari warp E c'è il mio E vi trovate sul mio E potete andare a farmare gli slime block Mi era stato chiesto da una ragazza Da una persona che ho trovato sul server Insieme a un altro Ragazzo che ho aiutato Regalandogli dei soldi E mi ha detto la ragazza Ma metti il warp Così noi Persona normale Anche quando non ci sei Possiamo entrare nella tua isola E Magari Farmare Senza di te Io ho detto Adesso mi informo E vedrò di farlo Infatti sono riuscito a farlo E sono contento Comunque Sto completando piano piano Quest'ala qua E poi mi Concentrerò Sull'altra metà Quindi l'isola Sta prendendo forma Poi ragazzi Consigliatemi voi Come facciate in universe Le farm da fare Le varie cose Perché poi le challenges Le challenges Sono Molte Questa non più Posso fare ancora panettiere Chimico Creatore di carta Scalpellino Che è Molto Questa non è molto bella Come cosa Perché Per me che sto facendo l'isola Ancora non mi Bilancerò a farlo Però appena finirò di fare l'isola Invece che usare i blocchi Per fare le slab Li terrò per fare l'obiettivo Anche se 100 volte Sono 100 Sono 100 stack E non è poco Poi Parte che poi Uno quando c'è i soldi Magari le compra Poi Questa qua si può fare Ma dovrei fare una farm specifica E Questa potrei fare Una bella torre Una torre di zucca Di meloni Andrei Posso andare a riprendermi I miei vecchi video E fare la torre di zucca Ragazzi lo farò Appena ho qualcosa di soldi Metto da parte E faccio vari livelli Delle torre di zucca Perché tanto c'ho il tutorial Per chi di voi Non l'avete visto Magari ve lo lascio in descrizione O con la I Qua so perché io non l'ho mai usato Ma imparerò a usare Qui ho i spezzettini Di quelle cose lì Il costruttore L'ho fatta E non si può rifare Che tra l'altro ragazzi Adesso vi faccio vedere una cosa Io ho 55 di ossa Vediamo quanto ci fruttano Nello shop Perché se non mi fruttano tanto Potrei invece tenermele Per Per fare la sfida Vendi tutto per 22,5 Stai scherzando Spero Ah se No 22,5 per 55 di ossa Non conviene Vedete ragazzi Conviene di più fare una roba del genere E E darci giù Andar giù Di bom meal E far crescere tutto il grano Conviene molto di più ragazzi Cioè non conviene La roba di venderli I drop dei mob sono Fruttano troppo poco Questa sì Questa è una critica che voglio fare Però giustamente Poi bisogna anche Guadagnarseli i soldi Quindi comunque Come vi dicevo Cioè piuttosto che vendere le ossa Vi farmate nella slime Se avete la fortuna come me Che vi spawnano gli slime Se no Vabbè Cioè non so cosa dirvi Io comunque il mio warp è aperto ragazzi Per chi Chiunque di voi volesse venire A fare una visita Oh c'è ancora Del grano Vediamo se riesco a fare 21 No 11 Sì però 21 ci riesco Ok Allora Posso fare la challenge del grano E di nuovo la challenge di questo Ok Mi ha dato un alberello E ora posso fare la challenge del panettiere Ok Quello del panettiere lo preferisco perché mi da la terra Questo qua Dei Dei Degli Alberi Non è che me le freghi tanto Anche se quello della giungla ragazzi Se faccio crescere Un albero della giungla lì giù È legno a palate proprio ragazzi Ci penserò Ci penserò su perché È una cosa interessante Anche se sarebbe proprio una rottura di palle E poi tirarlo giù Ok Ok metto via tutto il bom mill Non ci sta tutto qua Compriamo uno stack Uno stack costa 300 Oh uno stack costa 300 Ci può stare allora ragazzi Allora facciamo l'ultima challenge insieme Perfetto Mi ha dato 11 slime block No Quattro pezzi di cuoio Stivali O libro forse Non me ne ha dati Né stivali né libro Vabbè Mi ha dato la pelle Che non so sinceramente cosa farmene E le slime block ce le avevo già io Credo me le si regalate Quindi ragazzi Ci vediamo nel prossimo episodio In cui cercherò di essere ancora qui Con una caterba di legno Con gli stack delle mele Per fare il rank E con magari ancora cactus Da cuocere Per fare altri obiettivi Questa cosa che si può rinnovare La challenge Sì è veramente interessante Da Dicora25 Direi che è tutto Scusate se mi ripeto Ma lasciate un like Un commento Iscrivetevi Condividete il video se volete E vi rinnovo L'invito di venire Nel mio warp Se volete farmare Un po' di slime E di E di esperienza Perché poi alla fine È farm gratuita Ragazzi Io non faccio pagare niente Figuratevi Non mi interessano queste cose Comunque Per chiunque di voi Magari mi incontasse qua Mi può anche salutare E far vedere la sua italia Da Dicora25 Veramente tutto E good luck ragazzi Ci vediamo al prossimo video E ciao 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 Al prossimo episodio